Per chi voterà Grillo al secondo turno, Di Paola riapre con questa domanda la campagna elettorale su Bari. Punta l'indice su quella che definisce l'aberrante anomalia, un'unione di fatto tra PD e 5 Stelle che ha consentito il travaso di ben 30.000 elettori, circa il 18% del 26, raccolto all'Europee dai grillini, finito dritto dritto su De Caro. Come è possibile, si chiede Di Paola, in assenza di un accordo ufficiale e considerando l'odio anti-Renziano del movimento. Io sto cercando Grillo per chiedergli che indicazioni darà ai suoi grillini il giorno del ballottaggio se andranno a votare per il braccio destro del suo peggiore avversario, almeno da quello che dicono. E cosa diranno i grillini che usciranno di casa alla moglie per andare a votare un giorno che non c'è Grillo in campo. Il vero programma di De Caro, al di là delle tabelline e delle slide dette in quattro secondi, è quello di portare Grillo al comune di Bari. Il candidato del centrodestra sfida l'avversario ad un pubblico confronto in cui ognuno porrà domande all'altro, gli chiede le dimissioni da parlamentare come gesto di correttezza verso la città, incalza sui temi più che sui gossip dei giornali, e contro la carta stampata si toglie diversi sassolini dalla scarpa, anzi mostra ai giornalisti il costoso paio finito nell'articolo che ha ricordato la cerimonia della lucidatura allo champagne.